Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi volevo far vedere che mi è arrivata la cintura di wrestling Wrestling dove sei? Eccola Ammiratela Bella vero? Ok ragazzi il video può finire qui Perché vi volevo solo far vedere la mia cintura Ah giusto lo stavo aspettando da 4 giorni Finalmente mi è arrivata E vi volevo solo far vedere la cintura Quindi ci vediamo al prossimo video Ah giusto E se vi è piaciuto questo video commentate qui sotto Iscrivetevi E mettete un bel like Ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao